Ci rende orgogliosi far notare come da quando siamo proprietari di questo club, tutti gli stipendi, i contributi, i fornitori di vario genere siano stati pagati con precisione assoluta, cosa da avere non comune nel mondo del calcio, soprattutto in quello di Serie C, nelle cui casse il più delle volte le spese superano notevolmente i ricavi. Analizzando rapidamente i bilanci dei due anni di gestione della nostra famiglia, salta all'occhio come nonostante gli oltre 2.000 abbonamenti, nonostante le sponsorizzazioni, gli incassi dei botteghini, le contribuzioni di Lega, le gestioni dei cartellini ed altro, il nostro club ha dovuto affrontare una spesa pari a più del doppio degli introidi. Questo perché non sempre si pensa a quanti esborzi economici deve affrontare una società calcistica, oltre agli stipendi di tutti i tesserati della prima squadra del settore giovanile. Un piccolo appunto va fatto anche per la mia figura, quella dei miei fratelli e di mio nipote che da due anni occupano un ruolo dirigenziale all'interno del club con un stipendio mensile pari a 0 euro. Dopo questo escursus riguardante la sfera economica della San Benettese, passiamo ora ad analizzare il settore giovanile della nostra società. Credo che la serietà del nostro progetto si rispecchi proprio in quello che stiamo facendo per i giovani attretti di San Benettesi. Il vivaio Rosso Blu per anni ha sfornato giocatori che sono riusciti a calcare palcoscenici importanti in Italia. Lo stesso Palladini che ha approdato nuovamente la San Benettese, dopo aver cavalcato campi di gioco nella massima serie, è un risultato del settore giovanile della Samba. Peccato che quando la famiglia Tormenti ha rilevato la società il settore giovanile era inesistente. Abbiamo provveduto a costruire un'equip di allenatori e dirigenti che curasse la crescita dei nostri giovani e i risultati sono stati immediati.